tu fai una bella tazza con tutti i grissini messi belli in piedi che sparano dappertutto e viene fuori un figurone tu la metti al centro del tavolo e vedrete che la volta dopo vi diranno ancora mamma papà zia nonna ci fai ancora quei grissini come è successo anche a me perché c'è mio figlio che mi richiede sempre vedremo i grissini sia quelli sottili che quelli un po più grossi per fare i grissini buoni che restano croccanti e durino molti giorni non serve chissà che formula chimica c'è un piccolo trucco che dopo vi faccio vedere molto facile farina uso una farina zero però vi scrivo qua o qua dopo vediamo anche quanta acqua ci va per i diversi tipi di farina così potete scegliere come volete farina 200 grammi non fatene troppa perché sono poi vengono un mucchio di grissini poi se volete farne più moltiplicate per due 200 grammi di farina di tipo 0 100 ml di acqua appena appena leggermente tiepida l'acqua deve essere la metà della farina lievito di birra secco io uso quello secco per comodità ne userò tre grammi qui c'è scritto lievitazione aggiungi cucchiaini di zucchero non è vero se viene benissimo anche senza zucchero lo zucchero si mette se usi la farina 00 che poco nutriente oppure se fa molto freddo ne metto dentro tre grammi una cosa vi devo dire riguardo al lievito di birra secco non è istantaneo perché c'è sempre questa confusione qua il lievito di birra secco l'utilizzato non è istantaneo è come lievito fresco normale un grammo di lievito di birra secco corrisponde a tre grammi di lievito di birra fresco se per caso volete utilizzare quello fresco ripeto lo zucchero non serve 3 grammi di lievito per 200 grammi di farina è già una bella dose io non andrei non andrei oltre sciogliere bene al centro della farina quando avete fatto una pappetta così il lievito è sciolto lo lasciate le cinque minuti intanto che si attiva il lievito questi cinque minuti qua io aromatizzo i miei grissini con del rosmarino va bene anche i semi di finocchio semi di sesamo tostati oppure anche niente li lasciate lisci prendete un ciuffetto di rosmarino fresco attiva appena raccolto e lo spennate lo spenno perché il gambo è duro dopo che trovate dentro le grissi il gambo mi saltare la dentiera a me tritare finemente le quantità fate occhio più non esagerate però con rosmarino perché dopo un po' sa di paglia aggiungo rosmarino pepe mio figlio ma è così faccio un po piccantini 20 grammi di olio questi sono 30 ma 10 li tengo perché mi servono dopo una presina di sale questo è meno di mezzo cucchiaino da caffè perché sale va messo dopo sopra alla fine mischiare impastate con il cucchiaio finché riuscite una volta che non ci riuscite più si va dentro di mano è un impasto molto semplice bisogna fare un impasto molto asciutto sodo nel caso vi sembra troppo appiccicoso aggiungete ancora magari un cucchiaino di farina delle farine non sono tutte uguali perciò a volte bisogna andare un po ad occhio vedete che è un pochino asciutta io ho fatto 200 di farina e 100 di acqua però la farina si vede che era un po debolino e quindi è un pochino appiccicosa allora cosa faccio prendono qui la semola rimacinata che mi serviva per dopo viene avuto dentro una manciata ma va bene qualsiasi tipo di farina giusto un cucchiaio e così gli aggiusto l'umidità magari uscite dalla bacinella andiamo sul tavolo gli diamo quattro colpi quattro girate così diventa più liscia più omogenea più bella ricordatevi se vi si appiccica dappertutto ancora un pochino di farina quando vedete che diventa bella liscia omogenea così come questa qua fa una bella pallina e la rimettiamo nella sua bacinella gabriele posso farla con la farina senza glutine con la farina di riso con la farina di fatelo con le farine che volete però se non hanno il glutine non dovete usare il lievito di birra ma dovete usare il lievito istantaneo per torte salate che è un po come lievito per le torte e non dovete farlo lievitare cioè lo impastate lo stendete direttamente adesso questo va però deve lievitare quanto tempo dipende dalla stagione della farina temperatura dell'acqua da quanto lievito avete messo dentro in genere un'ora un'ora e mezza è pronto se poi serve di più lasciate lì scappa mica è passata un'ora ecco non è lievitata tantissimo non è pane non è pizza però avete fare bollicini è diventato liscio così va già bene tiro giù il mio impasto dalla bacinella lo faccio cadere sul tavolo pochissima farina io uso la farina di semola rimacinata per fare queste lavorazioni la mettiamo dentro se stessa praticamente l'aria impastiamo un pochino appena appena la taglio in quattro pezzi per comodità quattro pezzi più o meno uguali vedete adesso bisogna fare quattro palline quattro palline rotondini mettiamo la pasta dentro se stesso e gli diamo una pirlata una arrotondata una arrotolata così faccio le mie quattro palline e le metto qui in un angolo dove non mi danno fastidio e 4 coprire così non si seccano adesso vi faccio vedere due modi per fare grissini i grissini quelli sottili tipo è tipo torinesi oppure quelli un po più grossi fatti a mano due modi diversi ci vogliono solo cinque minuti non deve lievitare un'altra volta cinque minuti che la pasta si ripiglia nel frattempo il mio riparo delle teglie con sulla carta forno e accendo già anche il forno a 180 gradi perché ho fatto le palline perché così ne utilizzo una alla volta e non mi si secca la pasta perché diventa difficile fate fare i grissini se la pasta ti fa la pelle sopra adesso con questa pasta qui tra l'altro se voi la fate lievitare ancora poi ci fate delle ottime pizzette chiusa parentesi adesso bisogna lavorare un attimino e facciamo i nostri grissini con un coltello o con una spatola tagliate delle striscette vi consiglio di usare meno farina possibile perché perché così non visito di scivolano una volta fate queste fettine qua con le mani li arrotolate questo è il sistema a mano e poi vediamo anche un altro sistema io parto dal centro con le mani vado verso i lati esterni e lui sia la e questi sono dei grissini abbastanza grossi se diventano troppo lunghi potete tagliarli a metà vedete voi questo è troppo lungo rispetto alle teglie che ho quindi lo taglio a metà gli do ancora una slungatina se lo posso mettere nella teglia ma adesso vi faccio vedere bene piccolo trucco se vi scivolano perché sono asciutti e sono seccati un po voi cosa fate un goccino di acqua bagnate la mano appena appena non tutta quest'acqua vi mi è scappata ecco bagnate la panna alla mano appena appena un pochino e usate le mani umide leggermente bagnate per ritirare i grissini così non vi scapperanno via da tutte le parti ve ne faccio vedere uno dall'inizio alla fine veloce così capite bene come si stendono vedete e incomincio ma gabriele ma perché uno dovrebbe farsi grissini che costano 1 euro e 50 alla scatola perché fatti in casa sono più buoni certo che costano di più ma sono più buoni poi vuoi mettere la soddisfazione di mettere a tavola una cosa fatta da te e poi dopo magari il giorno dopo ti dicono me li fai ancora che erano buoni eccetera eccetera è tutta un'altra cosa mettete li vicini perché così se no vi servono 50 teglie anche se si toccano un pochino fa niente ne faccio anche una teglia un po più grossi mi raccomando il forno e ricordatevi di accenderlo per tempo sono poi vi si seccano dentro le teglie oppure li fate con la nonna papera se volete farli fini 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 tutti uguali con la nonna papera vengono benissimo quindi buco più grosso che c'è l'uno la nostra pallina per quello anche che ho fatto le palline perché se no col cavolo grazie e gli diamo la passatina senza piegarla e non è pasta l'uovo è pasta lievitata passiamo anche due volte per se serve mettiamo della farina in questo caso per adesso non serve ma servirà poi due basta non andiamo oltre il 2 serve la farina perché si sta appiccicando quindi metto un po di farina e la passiamo anche col 2 gli diamo una bella infarinata bene sopra sotto dappertutto con la semola rimacinata ora potete fare due cose la potete tagliare con un coltello fine li tirate un po e basta fine del grissino oppure la passate per la per il cilindro delle tagliatelle quello più grosso mi raccomando che sia infarinata mi raccomando un po veloci a portarle nella teglia gli date una tiratina e gabriele ma come sono sottili e ma dopo lievitano potete anche arricciarli farli fritti questi così qua perché lo fate con la macchinetta intanto se volete fare tutti uguali tutti i dritti molto sottili la macchinetta il sistema più veloce perché comunque provate a pensare a fare a mano quattro teglie di grissini così sottili finite più li potete infornare subito così come sono oppure li potete mettere sopra dell'olio così come sono e rifornate oppure fate misto come faccio io per farvele vedere diversi questi quei più grossi di bagno con l'acqua che se devo farci appiccicare sopra qualcosa serve l'acqua o latte li bagno con l'acqua con il pennello per bene e ci metto sopra dei semi di sesamo o di lino li muovete un po con delicatezza così raccatano su tutti i semi che sono finiti in giro per la teglia tutti no è un'utopia però molti ecco questi qua sottili sottili li metto solo dell'olio sopra perché così diventeranno molto molto croccanti questi qua invece li facciamo piccanti quindi prendo dell'olio di peperoncino lo mischio con l'olio normale poco olio normale e tanto olio di peperoncino e gli diamo una spenda mi raccomando poco olio perché l'olio quando si riscalda va in giro da solo altrimenti vi vengono fritti vi ricordate che abbiamo messo poco sale nell'impasto perché perché il grissino è buono se salato esternamente quindi li metto un pochino ricordatevi è metto un pochino di sale esternamente sempre senza esagerare non preoccupatevi se non sono drittissimi ai grissini se sono un po così un po ad minchia ma un po storti un po fa niente sono più belli rustici il forno forno 180 190 gradi anche 200 posizione centrale ventilato statico lo stesso non cambia niente prima metto dentro i due più sottili questi coceranno in 5 6 minuti e poi quelli più grossi che voi ci vogliono due minuti in più però bisogna andare un po che ha bisogno tenerli d'occhio mica perché bruciare questi un attimo quelli sottili quando i grissini saranno dorati quasi cotti quasi cotti li tiriamo fuori me li metto sul tavolo così si raffreddano in 30 secondi perché vi avevo detto che mi dicevo un trucco il trucco per fare che si ne grissini vanno ricotti cioè vanno raffati raffreddati non ci mettono un minuto e poi vanno rimessi nel forno altri due minuti in maniera che si seccano un po come i cantucci ed restano tutti belli croccati e durano giorni e giorni chiusi nell'armadio in un sacchetto di carta se c'è n'è qualcuno che si è appiccicato da tiepidi si staccano molto facilmente li metto tutti ammucchiati insieme in una teglia sola questa tecnica di farli raffreddare e poi rimetterli in forno un minuto si chiama biscottatura e viene usata per i biscotti bis cotti cioè cotto due volte è un sistema per rendere molto croccanti le piccole cose come i biscotti cracker e cose del genere e renderli friabili per molti giorni adesso io questi passi sono quasi raffreddati mi metto in forno per 1 barra 2 minuti non di più e paura che ti vedo è la cosa più buona è giuggerci il dito tira sui semini tostati e salati potrosimini ti vediamo tutti fatto la taglio dopo pronti si sono riscaldati in altra volta adesso le facciamo raffreddare e li mangiamo grissini fatti la beatrice ha fatto un bel pacchettino per fare la fotografia però insomma io adesso li devo disfare sapete cosa faccio li prendo e li metto dentro una tazza poi mettete a tavola la tazza come se fosse già mettete in mezzo così con tutti i grissini che sparano di qui e di là e vedete come fatene anche un po di più io ho fatto 200 grammi ma secondo me questi non durano neanche neanche cinque minuti sentite belli croccanti come l'ho toccato si è distrutto scusate vi faccio sentire il rumore però non faccio a farvi sentire quanto è croccante un grissino buone buone questi vigo semini guardate che forma perfetta a banana il grissino rustico fatto in casa deve essere storto perché se viene dritto non è originale non è rustico non è è